L'applicazione di Black Traction sugli pneumatici dei camper è particolarmente utile e vantaggiosa perché permette di rinnovare e mantenere sempre ottimale l'aderenza di pneumatici che invecchiano anche se sono inutilizzati e che molto spesso vengono sostituiti sostenendo una spesa molto maggiore anche se hanno un ottimo battistrada da usufruire. Black Traction va applicato sugli pneumatici puliti e asciutti e ha una durata d'effetto di circa 6 mesi a chilometraggio limitato. Rinnovabile è meglio partire sempre con l'applicazione negli pneumatici anteriori perché sono quelli che sopportano il carico della frenata e che hanno maggiore effetto in caso di necessità e va lasciato assorbire per almeno un paio di giorni perché penetri in profondità della gomma e abbia la più lunga durata d'effetto possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti